come vedi l'uscita va così con la curva passa questo perché ti dico perché questa qua non è casa mia e non ho voluto perforare il tetto come facciamo da noi perché non c'è la possibilità di fare una conversa decente qua perché ti ricordo che siamo nel terzo del mondo assicché qua esce il tubo e ho fatto che saltano fuori i due metri di tubo là sopra